Il rifoso del Napoli lo sono sempre stato, quando ero parroco di Sant'Agata io compravo il giornale il lunedì e trascorrivo tutta la mezza giornata a leggere la cronaca che si faceva sul Napoli, sulla vittoria e cominciamo a pensare al Napoli già la domenica precedente per la squadra che doveva incontrare la domenica seguente. Mi è dispiaciuto che è andato via la Rezzi perché non mi piaceva tanto il gioco che egli faceva, si era bravo magari nel tripling però nel gioco di squadra non era tanto capace come invece Cavani il quale fa anche da difensore talvolta per aiutare la squadra, quindi Cavani mi è sembrato senz'altro un acquisto indovinato da parte del Presidente al quale va senza acqua in merito di aver fatto risorgere il Napoli dalle ceneri, ha avuto il coraggio il Presidente del Napoli di far partire il Napoli stesso dalla serie C e questo ha aiutato senz'altro lui a liberarsi di tutta quella marmaglia che si era messa attorno alla squadra e che l'ha portata fino, sì Ferlaino ha fatto senz'altro, ha fatto venire Baradona, però io non credo che Baradona sia portato beneficio ai napoletani, ha portato beneficio soltanto agli sportivi ma per quel orgasmo che ha creato quando ha ottenuto vittoria.